Manifestazione questa mattina all'esterno dei magazzini Prologis Barberis al Polo Logistico. Una trentina di lavoratori della cooperativa che gestisce la movimentazione delle merci, affiancati dai Sicobas e da Rifondazione Comunista, ha picchettato il cancello d'ingresso impedendo ai camion di entrare e uscire dal deposito. Voi lamentate il fatto che vi sono state tolte delle ore a favore di altri? Certo, certo, assolutamente, ma non è soltanto di ore, noi stiamo perdendo le giornate. Io personalmente sono fermo dagli inizi del mese, altri sono fermi da due settimane, altri sono fermi da tre mesi, c'è gente che qui ha famiglia, deve mangiare e purtroppo siamo qui a chiedere il ritorno al lavoro. Stop, niente di eclatante. I manifestanti attorno alle 11 hanno liberato l'ingresso, una protesta che ricorda in piccolo quella scoppiata nell'autunno scorso fuori dall'IKEA e come in quel caso la cooperativa che gestisce il personale respinge fermamente le accuse. Non c'è alcuna discriminazione, solo una normale turnazione legata ai picchi di lavoro. presto ci vedremo per risolvere eventuali problemi che possono essersi venuti a creare.